Ci sono altri nuovi casi sospetti all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, tutti del Salernitano. Un uomo anziano è giunto nel pomeriggio di ieri all'ospedale Umberto I. A prenderlo in carico l'infermiere e l'operatore socio-sanitario del pronto soccorso di turno nella tendo struttura. E' immediatamente scattata la verifica con il medico del pronto soccorso, l'infettivologo di malattie infettive e il radiologo di turno. La catena si è messa in moto, dopo attente valutazioni del risultato dell'attacca, l'anziano è stato ricoverato come nuovo caso sospetto. E' già stato sottoposto a tampone, si attende l'esito che dovrebbe giungere entro le prossime 24 ore. Una notte invece tranquilla, con nessun ingresso nella tendo struttura, in mattinata sono arrivati due pazienti, entrambi del Salernitano, uno in particolare dell'agronoccerino sarnese. Il primo è giunto in ambulanza, è stato ricoverato, anche se l'attacca fa bene sperare. L'altro paziente è arrivato nella tarda mattinata, l'esito dell'attacca è preoccupante, saranno comunque entrambi sottoposti a tampone. Dunque nuovi arrivi, nuovi ricoveri, mentre i pazienti positivi già presenti in reparto, entro l'inizio della prossima settimana dovrebbero essere tutti trasferiti al Mauro Scarlato di Scafati. E dal reparto di malattie infettive giunge questa foto, un'immagine che trasmette positività. Era questo l'obiettivo delle donne Coraggio che sono protagoniste dello scatto. Nonostante tutto dicono vogliamo rendervi partecipi di quanto ottimismo c'è. E proprio da uno dei reparti in prima linea, quello di malattie infettive, arriva un grazie a tutti coloro che li stanno sostenendo in questo momento di difficoltà.